Ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Oh, finalmente, voilà Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ovvero vlog E perché è da tanto che voglio parlarvi un po' di alcune cose Voglio comunicarvi un po' di cose Perché è da tanto che... Visto che ultimamente non sto facendo più live Perché sto in ansia, sono in attesa Di questi cazzo di Game Awards che per una volta devono finire Perché veramente mancano, se no, sette giorni Poco più di tre settimane, va là, forse, non lo so Forse sto esagerando, fammi vedere un attimo Ok, una settimana, due settimane, tre settimane Ho detto bene Quindi tre settimane, ragazzi, dai, dai Vediamo chi vincerà questo premio dell'anno Che, ragazzi, ve lo dico, visto che mi sono... Oddio, quante mosche ci stanno Visto che... Oddio Mannaggia la puttana Visto che siamo diventati grandi Quindi a me non mi importa Di chi vincerà il premio Perché dicono che il premio fa la differenza No, non è vero, non fa la differenza È soltanto un premio del cazzo Ma la sono presa con God of Ragnarok Perché, vabbè, God of Ragnarok Era una cosa mia personale Perché l'hanno boigottato Tutti hanno boigottato la vincita di God of Ragnarok Di l'anno scorso E hanno fatto vincere le ring Caso strano dai giapponesi Ma comunque, vabbè Speriamo che quest'anno Chi vince, vince A me non mi rifega un cazzo Però dico che Marvel's Spider-Man 2 Solo meriterebbe Perché ha avuto una svolta incredibile Dal primo capitolo Dico solo questo Baldur's Guide 3 Potrebbe vincere? Chi lo sa Dobbiamo aspettare per forza L'8 dicembre, ragazzi Non posso dirvi altro Vabbè Tra lasciando i video giochi Come sto? Ragazzi Sto un pochino meglio Diciamo che nell'ultimo periodo Ho avuto delle influenze Veramente Una cosa troce Per il semplice fatto Di cambio di stagione Ragazzi In poche parole Io sono allegico All'autunno E la primavera Perché Ci sono delle piante Dei fiori Delle cose Veramente che mi uccidono Mi entrano dentro al naso Entra nel mio cervello Tutto il corpo E muoio Nel letto Però ultimamente Stavo soffrendo Di dolori Ai denti Ma pure Le orecchie Delle gingiva Mamma mia Potete capire Che avevo preso pure Vi ricordavate Le pillole Mentre erano in live Mamma mia Veramente Dei dolori assurdi Che Neanche al mio peggior nemico Lo farei provare Tranne a Donnalì A Donnalì Invece lo farei provare Con l'intero Questo dolore Vabbè Comunque Come so Sto bene Diciamo che Mi sto riprendendo Nell'ultimo periodo Perché questo è un anno Un po' così e così L'anno scorso è stato Veramente un anno Di merda Ma quest'anno Diciamo che Mi sono un po' Recuperato Diciamo Sto facendo del mio E Mi sto evolvendo E Mi devo dire Un paio di cose Allora Intanto Intanto Ving One second Perché mi sono già scordato Allora In questo momento Io ho registrato Quattro video Ok Quattro video in cui I primi due Le vedrete Il 26 novembre Parlerò Dicono Ragnarok Loki Il dio Delle storie Che è molto Intrigante Come video Perché Parla di una teoria Molto assurda Poi Il 3 dicembre Esce Cosa ne penso Di GTA 6 Sì Poi altri due video Che ho registrato Ovvero Quale scelgo da Infamous Prototype In caso di Un Di un'uscita E l'altro invece Parlo di Di che cosa parlo Non mi ricordo Ah Di che cosa parlo Quale In che In che contesto Uscirai del sito Di Mavis Spiderman 2 Per l'appunto Quindi Saranno Dei video Che vi terranno Occupati Mentre io Non farò live Anche questo video Perché è un vlog Quindi Parlerò Di cose E poi Il 31 dicembre Ragazzi È l'ultimo video Dell'anno Sì Ma è l'ultimo video Di The Gamer Sparta Perché adesso Vi devo dare Delle spiegazioni Perché Giustamente Qualcuno si è preoccupato Che io su Instagram Ho scritto Ragazzi Il 31 dicembre Morirò Non mi preoccupate Non sono malato Non ho nessuna malattia Che mi uccide Non ho un cancro Non ho niente Non ho niente Nessuno Che c'è il cancro No Semplicemente Morirà Il mio personaggio The Gamer Sparta morirà E non solo Radicalmente Ma morirà Nell'ambito Di lavoro Perché Ho capito Che questo È un lavoro Che deve essere preso Con molta Con molta serietà E con molto Tempo Che io Purtroppo Non ho più Quindi farò Quindi farò Dei video Vlog Ogni tanto Non porterò Più videogiochi E cambierò Il nome E Tutto Mi farò chiamare Il mio nome Originale Ovvero Lorenzo Non sarò Non sarò più The Gamer Sparta Perché Morirà The Gamer Sparta Morirà Il 31 dicembre Quindi Dall'anno nuovo Sarò me stesso Quindi Non ci sarà più Di Gamer Sparta Ecco Poi Parole Live Su Twitch Qualche volta Non sempre Se avete voglia Di donare O di Subbarvi Fatelo Costa poco Fatemi Sto regalo Di Natale Vabbè No Regalo Di Natale Ecco Per esempio Un bel regalo Che accetterei Sarebbe Che il 8 dicembre Mentre starò In live Potete farmi Qualche cosa Tipo Una sub Oppure Una donazione Per me Qualsiasi cosa Conta Per me Non c'è problema Intanto Per il supporto Anche se siete in live A vedermi Oppure a vedere i miei video Vi ringrazierò sempre Non è un problema Questo Diciamo che io Non ho mai desiderato Troppa Di visibilità Perché io Diciamo Mi piaceva sta cosa Portarvi Dei contenuti Che a me piacevano Solo che adesso Incominciamo un po' A stancarmi Ecco Calcolate che io Da due anni Che ho avuto Come cazzo Si chiama Ho avuto L'affilazione Sta suonando Il clacson Si vede che questa gente Non sta disturbando Per niente La gente Eh a posto Dicevo Ragazzi Avere l'affiliazione Da due anni È un conto Ma giocare Per più di 12-13 anni Forse anche 15 Dopo un po' Rompi il cazzo Ti rompi il cazzo Dopo che giochi Troppo tanto tempo Quindi Diciamo che mi sono Leggermente annoiato A giocare ultimamente I giochi Sì ma Anche portarli in live Per esempio Vabbè Dead by Daylight L'altra volta Ho fatto un'eccezione Perché non potevo fare Mezz'ora di live Quindi Ok Va bene Ci sta Niente Ragazzi Io ho finito da dire Quello che ho dovuto Da dire In questo video Noi ci rivediamo In prossimi video Quello che vedrete E Mi raccomando Cosa importantissima L'8 dicembre All'una di notte Io sarò in live Su Twitch E su Youtube Per Fare la reaction Ai Game Awards Signori Mi raccomando Io qui Ho la muffa Dei pronostici Che faremo insieme In live Metteremo la crocetta Su quelle che usciranno Quello che no Ogni punto Ogni gioco uscito Trailer Tisettrail Qualcosa Dieci punti Invece Cose che non ho pronosticato Che non usciranno Meno dieci punti Vediamo quanti punti faremo Con le uscite Del Dei Game Awards Signori Noi ci vediamo L'8 dicembre Mi raccomando ragazzi Vi aspetto Ciao a tutti